Noi italiani siamo molto fortunati, non solo gli italiani, ma l'Europa in generale, perché abbiamo un patrimonio veramente immenso, infinito. Forse ce ne rendiamo conto quando usciamo, andiamo fuori dall'Europa e quindi quando rientriamo basta alzare lo sguardo e veramente, ecco, io vivo a Roma adesso, ti fai una passeggiata a Roma e non fai altro che camminare veramente in un museo a cielo aperto, quindi l'arte ci riempie, ci riempie proprio il cuore, la vista, i sensi. Opere d'arte italiane veramente ne abbiamo tantissime, abbiamo un patrimonio molto importante. Io sono molto legata a Amore e Psiche, Alcanova, poi c'è Botticelli per esempio, la primavera di Botticelli. Quell'immagine mi esprime gioia, quindi luce, bellezza. La bellezza, come fai a descriverla, a raccontarla in poche parole? È impossibile perché la bellezza racchiude in sé tantissime sfumature. Appunto la bellezza artistica del nostro patrimonio artistico e culturale, la bellezza dei paesaggi, la bellezza di una donna. La bellezza penso che è qualcosa di oggettivo, perché quando qualcosa è bello, è bello, punto.